Grazie Paolo, buongiorno a tutti, anch'io ringrazio Centromarca e IBC per il supporto fornito nella realizzazione di questo rapporto che adesso vado a presentarvi e che nel momento in cui abbiamo deciso di farlo abbiamo avuto come obiettivo quello di analizzare le sfide, lasciatemi dire, epocali a cui oggi sono chiamate le imprese dell'industria alimentare, proprio a causa di questa pandemia che ancora è in corso. Il libro si compone di due parti, così come la mia presentazione che vado ad iniziare e la prima parte è legata a quello che era l'industria alimentare fino al 31 dicembre 2019, quindi quelle che sono le valenze socio-economiche che questo settore esprime e soprattutto il posizionamento competitivo raggiunto nel corso degli anni, mentre la seconda parte del libro e quindi anche la mia presentazione è legata a capire più nel dettaglio quelli che sono i fattori che cambieranno lo scenario di riferimento per le imprese. Venendo alla prima parte, in questa diapositiva vedete fondamentalmente quello che è il contributo che il settore esprime per il sistema paese. In termini di valore aggiunto prodotto, parliamo di circa 30 miliardi di euro, l'industria alimentare e delle bevande è la terza industria più importante a livello nazionale dopo il metallo meccanico e i macchinari nell'ambito del settore manifatturiero. Considerate, per darvi un termine di paragone, che a livello europeo l'Italia è la seconda industria manifatturiera dopo la Germania e questo vi dà l'idea di quelle che sono le rilevanze che l'industria alimentare appunto esprime per il sistema paese. Giusto per una precisazione, il valore aggiunto rappresenta fondamentalmente la capacità del settore di creare ricchezza per il paese perché è tutto ciò che il valore viene poi restituito agli stakeholder del settore, quindi innanzitutto la mano d'opera e la forza lavoro, poi ovviamente anche gli imprenditori, ma soprattutto anche quello che è il gettito fiscale e quindi le entrate per lo Stato. Ma c'è anche una valenza sociale che mi piace esprimere e che vedete in questa slide, il fatto che l'industria alimentare è la prima industria manifatturiera per la percentuale più alta di under 40 occupati nelle proprie imprese, che è superiore alla media della manifattura del 35% e la stessa cosa si vince anche per la componente femminile. Il 35% degli occupati nelle imprese alimentari sono donne ed è una percentuale più alta della media appunto del manifatturiero che è pari al 26%. Queste valenze si esprimono anche a livello territoriale. L'industria alimentare potremmo chiamarla come un'industria diffusa perché grazie alla forte integrazione con il settore agricolo presenta delle forti interrelazioni a livello appunto locale. In questa diapositiva che vedete così colorata fondamentalmente che cosa abbiamo messo? Abbiamo messo a confronto quello che è l'incidenza del valore aggiunto dell'industria alimentare sul totale manifatturiero e confrontandolo anche con l'incidenza occupazionale. Tutto il quadrante di destra, quindi quello colorato in rosa, vi mostra fondamentalmente delle incidenze dell'industria alimentare in quei territori più alti della media nazionale e ci sono delle regioni dove queste valenze sono doppie e addirittura triple rispetto alla media nazionale. Sto parlando delle regioni del sud ma anche quelle alpine dove chiaramente si tratta di territori più svantaggiati e dove le alternative occupazionali ed economiche sono veramente ridotte. La stessa cosa si vede sul fronte dell'export. Ci sono regioni dove ogni 10 euro di valore esportato praticamente 4 attengono a prodotti alimentari come il caso della Campania e della Calabria dove fondamentalmente la componente alimentare è una componente molto più alta nell'export rispetto al manifatturiero complessivo. Ora si dice che quando il gioco si fa duro i due cominciano a giocare e se guardiamo questi grafici riportati nell'unica slide vi rendete conto come durante gli ultimi 10 anni cioè in piena grande recessione l'industria alimentare si è riuscita a sostenere anche l'economia nazionale per quanto riguarda l'export, il valore aggiunto e gli occupati. Mettendo a confronto quelle che sono state le performance dell'alimentare rispetto al totale manifatturiero vedete ovviamente delle performance e quindi dei risultati molto più rilevanti. 81% in 10 anni la crescita dell'export contro un 30% dell'industria manifatturiera 19% la crescita del valore aggiunto contro più 7 la media e un'occupazione crescita del 2% quando invece a livello del settore manifatturiero abbiamo registrato un calo di ben il 13%. Qualcuno potrebbe obiettare che in tempo di crisi bisogna comunque mangiare ma in realtà c'è cibo e cibo perché se guardiamo quelle che sono state le performance dell'industria alimentare anche all'estero vi rendete conto come fondamentalmente le nostre imprese abbiano acquistato o comunque acquisito scusate quote di mercato. Siamo la quinta potenza mondiale a livello esportativo dopo paesi del calibro degli Stati Uniti della Germania e soprattutto abbiamo una forte caratterizzazione che connota il nostro export che è quello di essere specializzato, fortemente specializzato e con un posizionamento medio di prezzo alto. Perché dico questo? Perché se guardiamo quelle che sono le quote all'export dei nostri principali prodotti quelli legati al made in Italy siamo leader assoluti a livello mondiale per alcuni prodotti. Conserve di pomodoro, pasta, salumi rappresentano per l'Italia una delle principali voci di export e nel complesso degli scambi mondiali il leader assoluto. Pensate che ogni 10 euro di passata di pomodoro, di derivati di pomodoro che viene scambiata a livello mondiale quattro attengono a prodotto italiano. Ma anche nell'olio d'oliva, nel vino, nel caffetto refatto fondamentalmente siamo secondi esportatori a livello mondiale, così come nei formaggi occupiamo il terzo posto. Nei formaggi però siamo anche il paese che ha il prezzo medio all'export più elevato, 7 euro al chilo contro i 4,6 della Francia e i 3,2 della Germania. Ma questo posizionamento medio alto si riscontra anche nell'olio d'oliva e nei salumi. Tutto ciò nonostante i forti gap dimensionali che connotano il settore alimentare. Pensate che praticamente 9 imprese su 10 hanno meno di 10 addetti e questa differenza dimensionale la si vede soprattutto nei singoli settori nei confronti con i nostri competitor europei. Nel caso della Tieri Caseari il confronto è impietoso. La Germania ha una dimensione media delle aziende del settore superiore ai 55 milioni di euro di fatturato contro le nostre che sono sotto i 6 milioni di euro. E perché mi soffermo su questo aspetto? Perché le dimensioni contano soprattutto in un mercato globale dove ci dobbiamo confrontare tutti i giorni. Se guardiamo al contrario le aziende più grandi dell'industria alimentare cioè quelle che esprimono un fatturato superiore ai 350 milioni di euro parliamo di appena 49 imprese, cioè lo 0,1 del totale a cui però è riconducibile, lo vedete dalla diapositiva, è ben il 52% di tutto l'export del settore. Questo per farvi capire come fondamentalmente avere le spalle più larghe e le dimensioni più grandi sono condizioni necessarie per poter vincere sui mercati internazionali. Anche perché tutte le altre imprese che invece sono focalizzate soprattutto sul mercato interno rischiano di soffrire di più. Perché dico questo? Perché se guardo quello che è stato l'andamento dei consumi alimentari negli ultimi dieci anni potete vedere da questa diapositiva solo come nel 2019 si sia raggiunto il livello pre-crisi e soprattutto un livello raggiunto grazie alla crescita del fuoricasa che tra l'altro è il settore o il canale che è stato bastonato col coronavirus perché con il lockdown e con la chiusura della ristorazione è quello che sta soffrendo di più. Anche se vedete fino al 2018 il fuoricasa era arrivato a rappresentare circa il 34% di tutto il valore dei consumi alimentari italiani. Non solo, ed è l'ultima slide rispetto alla prima parte della presentazione il mercato interno, i consumi domestici soffrono anche di una forte riduzione o meglio polarizzazione di quelli che sono i consumi per fascia di prezzo. C'è una polarizzazione verso le fasce alte e soprattutto verso quelle basse con una riduzione invece di quella che è la fascia media dei prodotti acquistati. Questo in virtù anche di una minore capacità di spesa dei consumatori ma anche perché, ed è un riflesso di questa crisi o di questa evoluzione, all'interno dei canali il discount assume sempre più quota di mercato. Guardate la parte destra di questa diapositiva e vi accorgete come fondamentalmente nel 2019 la quota collegata alle vendite nei discount ha superato quella dei negozi tradizionali, andando anche a sottrarre, diciamo così, quote di mercato alla distribuzione moderna, in particolare Iper e Super. Passo alla seconda parte della presentazione e anche del libro. Quello che vi ho appena descritto era fondamentalmente ciò che la nostra industria alimentare è riuscita a conquistare fino al 31 dicembre 2019, poi è arrivato il coronavirus ed è successo il finimondo. Nuovamente l'anticiclicità del settore ha sostenuto l'economia nazionale. Da questo slide potete vedere fondamentalmente messi a confronto le vendite a livello nazionale nel commercio e a destra l'export. Vedete fondamentalmente come l'industria alimentare, i prodotti alimentari scusate, hanno tenuto fino a luglio dove invece si registra un leggero calo dell'1% nelle vendite mentre nell'export c'è stata una bella crescita nei primi tre mesi per poi avere una battuta d'arresto soprattutto nel periodo aprile-maggio con una leggera ripresa adesso negli ultimi due mesi. C'è da dire fondamentalmente che considerando anche la chiusura della ristorazione, la riduzione nelle vendite negli ultimi mesi e questi alti e bassi sull'export, anche il fatturato non poteva non andare nella stessa direzione. E infatti le stime di fatturato per l'industria alimentare vedete che da aprile a luglio presentano tutti i segni rossi, quindi in calo. Quello che è accaduto sul mercato estero è interessante perché è un po' lo specchio di quello che è accaduto anche a livello nazionale. Ci sono stati dei settori che sono cresciuti di più mentre altri che hanno avuto una riduzione anche significativa in virtù di quel lockdown o della chiusura dell'orecca che vi ho appena accendato. Facciamo un esempio per farvi capire meglio. Ci sono prodotti come la pasta, i derivati del pomodoro che nel primo semestre di quest'anno hanno registrato delle crescite molto elevate rispetto a quelle che erano invece i tassi di crescita degli ultimi anni. La pasta ha avuto un exploit di circa il 25% di crescita rispetto allo stesso semestre dell'anno precedente quando da 5 anni questa parte cresceva di appena il 3% all'anno. Lo stesso per i derivati del pomodoro, più 12% contro un più 2% annuo. Al contrario, prodotti come il vino e la cioccolata hanno subito una battuta al resto di oltre il 4%. Quando al contrario, negli ultimi 5 anni, crescevano a tassi compresi tra il 5% e l'8%. Questo perché? Perché la gente ovviamente chiusa in casa ha cambiato le modalità di consumo, ha avuto più tempo e ha mangiato più pasta. La questione del più 3,5% dell'export italiano in funzione di questi andamenti discordanti tra prodotti spiega anche perché la Francia, al contrario, abbia perso l'8%. E se andiamo a vedere quello che è stato il nostro posizionamento sui mercati esteri, vedete come fondamentalmente l'export italiano ha sovraperformato quello medio di mercato. È interessante vedere soprattutto il Canada che a fronte di una crescita dell'importazione del 3% è cresciuta la quota italiana di oltre il 13% e lo stesso è accaduto nel Giappone. Cito questi due mercati perché sono due mercati dove vige l'accordo di libero scambio e che ha facilitato sicuramente le esportazioni alimentari in questi mercati. Nonostante tutto questo, questi alti e bassi, chiaramente le imprese sono preoccupate. Il risultato che vedete in questa diapositiva è fondamentalmente l'output di un'indagine che abbiamo realizzato proprio per l'occasione di questo libro su circa 200 imprese alimentari italiane con una rappresentatività su tutto il territorio nazionale. e vedete fondamentalmente come sei aziende su dieci stimano un fatturato in riduzione per l'anno in corso. Tra l'altro il 38% prevede una riduzione superiore al 15% rispetto all'anno precedente. D'altronde queste preoccupazioni sono anche motivate. L'Ox è uscita qualche settimana fa con una previsione di calo del PIL in Italia di oltre il 10%. Un PIL che recupererà nel 2021 solamente il 5% rispetto a questo calo e che quindi necessariamente vedrà ancora una situazione di crisi prolungarsi in un bienio. Tutti i paesi, ed è una situazione che non era mai capitata a livello mondiale, segneranno un calo del PIL quest'anno, ad eccezione della Cina, ma la Cina considerate che negli ultimi 5 anni è cresciuta mediamente a un tasso del 6,5%, quindi un più un 8% è effettivamente una recessione per loro. E poi c'è l'altro aspetto legato al fuoricasa. Anche i tempi di recupero di questo canale per l'Italia saranno sicuramente più lunghi del previsto. E lo dico per due aspetti principali. Il primo è la questione dello smart working. Lo smart working che ha interessato circa 5 milioni di lavoratori nel post lockdown in Italia e che dovrebbe interessarne altri tre nell'anno prossimo. Chiaramente smart working vuol dire meno colazione al bar e meno pranzi fuori casa e quindi questo necessariamente avrà un impatto diretto sulle attività dei pubblici esercizi dei ristoranti. L'altro aspetto che mi preme considerare è quello del callo degli arrivi di turisti stranieri in Italia. La stima dell'ENIT dice meno il 58% degli arrivi esteri nel 2020, suffragato dalla forte riduzione delle prenotazioni aereo-portuali, meno 92% per quest'autunno. E giusto per darvi un termine di paragone, pensate che l'anno scorso la spesa di turisti stranieri nei ristoranti italiani è stata vicino a 10 miliardi di euro. Quindi questo vi dà l'idea delle proporzioni che la crisi potrebbe ancora di più toccare, soprattutto in quest'autunno, il canale Oreica in Italia. D'altronde, e vi riporto di nuovo altri risultati dell'indagine fatta sulle imprese, è veramente il mercato italiano a preoccupare di più. Almeno 7 aziende su 10 vedono il mercato italiano come un aspetto critico per l'attività aziendale, meno quello su mercati esteri, allo stesso livello degli investimenti. Se guardate poi la domanda che abbiamo posto alle imprese, come cambierà il mercato nazionale nei prossimi anni, le prime tre risposte di preoccupazione sono tutte su fuori casa. Il 52% ritiene che ci sarà un calo drastico del numero dei bar e dei ristoranti, calerà il turismo e il gastronomico e si ridurranno necessariamente i consumi fuori casa. Quindi questi dati che vi ho fatto vedere prima vanno a braccetto con le preoccupazioni delle imprese dell'industria alimentare italiana. La questione degli investimenti che vi ho appena citato. 8 imprese su 10 avevano programmati investimenti per l'anno in corso. Il problema è che solamente il 31% di questa componente ritiene di continuare a sostenere questi investimenti così come aveva preventivato, mentre tutti gli altri o posticiperanno gli investimenti o comunque li rimoduleranno dal punto di vista del budget. Ci sono però degli investimenti che non possono essere rimandati perché sono necessari a contrastare questi cambiamenti di scenario. A parte gli impianti macchinari, guardate la seconda voce che è riportata nella parte sinistra della slide. Investimenti nelle tecnologie digitali rappresentano un qualcosa che le imprese devono mettere in piedi per contrastare un po' questi cambiamenti. Tant'è vero che alla domanda quali sono le strategie da mettere in campo per i prossimi due anni il potenziamento della presenza dell'azienda nei social network e il potenziamento del canale online rappresentano due delle principali strategie da mettere in campo. E anche qui come dar torto alle aziende se guardiamo quelli che sono stati i tassi di crescita delle vendite online di prodotti grosseri abbiamo un più 145% nella fase 1 quindi di lockdown rispetto all'anno precedente e più 132% da maggio a luglio. Quindi un qualcosa che anche dopo il lockdown ha continuato a crescere. Chiudo la presentazione con un altro aspetto non meno rilevante nei cambiamenti di scenario. Cioè quello che attiene all'approccio del consumatore rispetto a quelli che sono stati i cambiamenti indotti dalla pandemia. Anche qui i risultati di tre indagini che abbiamo fatto prima del 2020 durante il lockdown e post lockdown. Alla domanda quali sono i criteri principali che guardi il consumatore quando procede all'acquisto dei prodotti alimentari nel 2019 italianità e tutela dell'ambiente figuravano ai primi posti. Durante il lockdown questi criteri hanno avuto un ulteriore aumento diciamo di gradimento da parte dei consumatori in più la questione anche salutistica che ha interessato il 49% degli intervistati ma anche dopo nel post lockdown c'è stato un ulteriore consolidamento di questi criteri. Il 49% nelle intenzioni di acquisto ha dichiarato che darà più importanza ai prodotti del made in Italy e del territorio un altro 42% ai prodotti sostenibili. E queste sono le conclusioni alcune riflessioni che derivano un po' da tutti questi numeri che vi ho descritto ma che poi troverete all'interno del libro è che quali saranno quindi le prospettive per l'alimentare italiano nei prossimi anni e come dovranno essere affrontati. Ci sono ovviamente alcuni aspetti alcuni passaggi che il Covid-19 ci lascia in eredità come questi cambiamenti negli approcci al consumo che vi ho fatto appena vedere che non riguardano solo il nostro paese ma l'intero mercato mondiale indubbiamente il Covid-19 ha dato una maggior rilevanza strategica quindi ha aumentato la reputazione la buona reputazione che le nostre imprese alimentari hanno nel contesto nazionale rafforzando anche l'italianità delle produzioni la ricerca dell'italianità delle produzioni al momento di fare la spesa. C'è un altro aspetto che mi preme sottolineare che è quello della sostenibilità che un tempo veniva vista solo nella sua sezione legata all'ambiente con il Covid-19 aumenta la percezione dal punto di vista del consumatore anche rispetto a quelli che sono i risvolti sociali quindi la sostenibilità sociale intesa come salvaguardia occupazionale sviluppo locale e integrazione di filiera sono tutti aspetti che nel momento in cui il consumatore oggi va a fare la spesa guarda con più attenzione. Non dobbiamo dimenticarci dell'export perché il passaggio dalla crisi sanitaria alla crisi economica porterà necessariamente a un minor potere d'acquisto dei consumatori italiani e quindi per noi che parlo come imprese alimentari che ci posizioniamo su una fascia medio-alta di prezzo necessariamente dovremmo trovare mercati più profittevoli e tenendo un occhio alla diversificazione dei mercati perché non dimentichiamo che oggi la metà di tutto il nostro export praticamente finisce in appena cinque paesi al contrario ad esempio della Germania dove questo grado di concentrazione è molto più basso ed è appena superiore al 40% sarà importantissimo investire nell'innovazione e nella formazione e qui mi riferisco in particolare alle tecnologie dell'industria 4.0 così come non dobbiamo dimenticarci di cogliere le opportunità che la politica economica europea ci offre magari su questo dopo il professor De Castro farà un passaggio più preciso quando parlo di politica economica europea mi riferisco sicuramente agli accordi di libero scambio al Green Deal che non deve essere visto come un fardello ma come un'opportunità per le imprese e anche la promozione sui mercati esteri che non dobbiamo assolutamente dimenticare non ultimo necessariamente anche il Recovery Fund che può rappresentare una bella opportunità per colmare dei gap strutturali che l'industria alimentare come di tutti i manifatturi ero a ultimi 30 secondi concedetemi per ringraziare tutto il gruppo di lavoro dell'area agroalimentare che ha lavorato con me nella stesura di questo studio e di questo libro a cominciare da Emanuele Di Fastino che ha coordinato il gruppo di lavoro Stefano Baldi e Vita Gandini e Chiara Volpato desidero anche ringraziare lo stesso professor De Castro per la prefazione al libro e il professor Lucio Poma capo economista di Nomisma che invece ha redato l'introduzione e un ultimo ringraziamento va a Ivo Ferrario e a Roberto Buccaneve di Centromarca IBC per il continuo confronto che abbiamo avuto sui temi approfonditi così come ringrazio Ginevra Moruso per il coordinamento editoriale a questo punto non mi resta che mostrarvi la colonna del libro e invitarvi tutti alla lettura di quanto vi ho presentato oggi che è riportato fedelmente in queste pagine e ridò la parola a Paolo De Castro per la seconda parte grazie 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 grazie